Musica Nella seduta del 14 settembre il Consiglio regionale ha ripreso la seduta speciale sulla cultura, avviata a fine luglio, con la discussione e la votazione di otto documenti. Approvato un ordine del giorno della maggioranza, respinti gli altri sette documenti. Queste le dichiarazioni di Andrea Stara, insieme per Bresso, e Michele Marinello, Lega Nord. Il tema non è solo la mancanza di risorse, perché è proprio nei momenti di difficoltà che si devono cogliere le opportunità. Io credo che la cultura abbia rappresentato per il Piemonte e per Torino negli ultimi 15 anni l'elemento e il volano dello sviluppo socio-economico. Ecco, non capire che tagliare sulla cultura significa rinunciare alla produzione di ricchezza che la cultura ha realizzato negli ultimi anni, vuol dire non avere consapevolezza della nostra regione e l'assenza di cota in Consiglio ne dimostra la totale indifferenza. Quando mancano i soldi bisogna fare delle scelte, forzatamente. Nello specifico il budget della cultura è stato ridimensionato perché non c'erano alternative. E allora il Consiglio regionale, con la mozione che ha approvato oggi, ha individuato una strada che non è quella di cercare ogni anno di portare qualche soldo in più al settore della cultura, ma è quella di ridisegnare il sistema culturale attraverso una legge nuova. Questa è la strada a seguire.